salve a tutti ragazzi sono ancora io 981d1 e vorrei presentarvi questo gioco ho scaricato la demo su steam quindi non vi farò vedere tutto proprio il gioco proviamo free play questo gioco fa davvero schifo quindi sarà una serie di giochi schifosi mettiamo l'apps ne metto due all players ne metto quattro ok ping blue next scegliamoci l'auto un gioco lento con una grafica proprio che fa desiderare mettiamo questo ok proviamolo è un gioco di corsi quasi come tutti gli altri però non proprio come tutti perché dovete beccare questi codi tutta sta roba oddio dai nitro che ragazzi guardate e fa i punti ecco avete visto dai 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 oddio dovete driftare in questo gioco driftare la parola è giusto oh yeah fuck you bitch ecco come vedete mi dà i punti se li becco mamma di togli ma mi dà vedete I have some destruction che è driftare in questo gioco che è driftare in questo gioco che è driftare in questo gioco ok ragazzi final lap oddio in questo gioco cioè guardate la sua grafica prima di tutto e provate a guardare l'intro su steam pensavo che fosse dieci volte meglio per questo ho scaricato la sua demo però è un gioco schifoso la piccola interruzione ehm ok abbiamo quasi finito no no non mi di dai che mi togli i punti proprio dai ok dai dai che sta finendo dai che sta finendo l'ultima yeah fuck you yeah 9930 punti ehm con questo ho finito questa recensione di giochi schifosi ehm grazie a tutti per l'ascolto e allora